Poracci eccoci di nuovo al consueto appuntamento con solo risposte sbagliate Ci eravamo lasciati con Elden Ring, Emma Box è stato rapidissimo O come in tanti di voi lo hanno ribattezzato, Zeldin Ring Ma il premio originalità va a Marco, con una top cheat attualissima Link, credo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo Direi una risposta sbagliata al 100% Ma bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi Peccato non famosi, avete perso la prova ricompensa Poracci bentornati o benvenuti su TG Poro L'unico format di Youtube Italia dove si parla di videogiochi un poro alla volta La puntata di oggi sarà ricchissima ma solo per chi è iscritto al canale Tutti gli altri purtroppo non riceveranno nulla da questo video Quindi l'invito è sempre lo stesso Iscrivetevi al canale mettendovi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com E' la fondazione del poroverso In descrizione trovate tutti i links per arruolarvi Mi raccomando cliccatevi tutti quanti Bene, ho detto tutto, iniziamo! Poracci oggi dobbiamo veramente correre perché ci sono veramente tantissime notizie di cui discutere Anzi, molto probabilmente dovrò spezzare questo TG Poro in due puntate Domani aspettatevi un altro video Quindi partiamo subito con un angolo della poracciata stringatissimo Da oggi potete trovare sul Game Pass Atomic Heart uno dei titoli più discussi del momento Al di là di tutte le controversie che sono state sollevate nei confronti del gioco Ci troviamo di fronte a uno di quei titoli in grado di spaccare in due la critica Infatti Atomic Heart ha collezionato sia pareri entusiastici ma anche recensioni negative So che alla fine con Bioshock non c'entra veramente niente Però il setting mi incuriosisce parecchio Io appena avrò un po' di tempo lo proverò Voi? Ah, visto che ci siamo, una piccola digressione rimanendo in tema a Microsoft Che piano piano si dimostra sempre meno poraccia Avete presente quando Phil Spencer e compagnia si vantavano Che non avrebbero alzato il prezzo della console a differenza della concorrenza? Beh, dopo l'aumento di prezzo in Giappone lo stesso è accaduto anche in Svezia E chissà se molto presto il rincaro, più o meno di 50€, si estenderà su tutto il solo europeo Se avete intenzione di comprare una serie S o X forse è il caso di darsi una mossa Tornando a parlare di poracciate vere e proprie Vi ricordo che da oggi potete provare The Legend of Dragoon sul PlayStation Plus Premium O altrimenti lo potete comprare separatamente sul PlayStation Store a 9,99€ Purtroppo il supporto ai trofei non è ancora abilitato Ma potete godervi la versione europea del titolo Questo significa avere il doppiaggio completamente in italiano Vi lascio immaginare la fattura di questo adattamento anche solo guardando il menu iniziale Nuo gioc e passa la paura Comunque non mi ricordavo tutti questi glitch grafici Appena avrò l'occasione indagherò sulla qualità dell'emulazione Intanto dal Giappone arriva la prima recensione di Kirby's Return to Dreamland Deluxe Che si becca un bel 35 su 40 Un voto in linea con le ultime produzioni della pallina rosa Io sono in stra-hype Ma così tanto che ho pure recuperato l'originale su Wii Non so Mi sento che molto presto usciranno le recensioni E sono curiosissimo di vedere che ne penseranno testate come EveryEye.it A proposito di serie storiche di Nintendo Star Fox compie 30 anni E nonostante la saga sia caduta nel dimenticatoio dopo il fallimento dell'episodio su Wii U Nintendo si è ricordata di celebrare questo importante traguardo con un post su Twitter Un'accortezza mancata per Zelda Ma non per Star Fox Vabbè Ma questo significa che presto rivedremo Fox McCloud Protagonista di un'avventura zeppa di bar e roll Difficile a dirsi Però intanto beccatevi questo nuovo artwork disegnato da Takaya Imamura Il designer originale della serie Che nonostante il pensionamento non ha certo dimenticato Star Fox Almeno lui E visto che stiamo parlando di artwork celebrativi Questa notizia fa male Avete presente tutto l'hype per le celebrazioni del decimo anniversario di Metal Gear Rising Revengeance? Beh, l'entusiasmo si è concretizzato in un post sul blog di Platinum Games Scritto da Kenji Sato, il director del titolo Volevate una remaster? Un remake o magari un seguito? Beh, accontentatevi di questi nuovi artwork Che per quanto siano fighissimi, insomma E chiudiamo l'angolo delle notizie al volo con tre appuntamenti imperdibili Che seguiremo tutti in live qui sul canale YouTube Nello shorts di oggi vi ho già parlato del Pokémon Presence del prossimo 27 febbraio Ma prima ancora ci sarà uno State of Play dedicato alle produzioni di terze parti In arrivo su PlayStation Con un focus particolare su 5 titoli VR E anche su Suicide Squad Kill the Justice League L'attesissimo titolo di Rocksteady Che nonostante i leak decisamente non incoraggianti Rimane un titolo che aspetto con grandissima impazienza E saranno ben 15 minuti dedicati alla produzione durante lo State of Play L'appuntamento è fissato per questo giovedì alle 22 Ma noi seguiremo l'evento a partire dalle 21.30 Non mancate, mi raccomando E poi se siete tra quelli che sono impazziti nel vedere il ritorno di Level 5 in Occidente Tenetevi forte perché a marzo lo studio terrà una sorta di mini direct intitolato Vision 2023 Durante questa presentazione che si terrà il 9 marzo a mezzogiorno Ci sarà spazio per i primi dettagli sul nuovo gioco del Professor Layton L'annuncio di un nuovo Megaton Musashi E anche dettagli su Deca Police e Inazuma Eleven Victory Road Che a quanto pare arriverà in Occidente La stream sarà in giapponese con i sottotitoli in inglese O se preferite anche in cinese E anche questa presentazione proveremo a seguirla dal vivo Vi do un consiglio Seguitemi su Instagram perché nelle stories Vi ricordo ogni giorno tutti gli appuntamenti Così siete sicuri di non perderveli Ma bene passiamo alle notizie del giorno Abbiamo un importante aggiornamento per Nintendo Switch Almeno sulla carta Quest'update è infatti considerabile come major Perché la versione del firmware fa un salto numerico Proprio degli aggiornamenti corposi Ma quindi cosa c'è di nuovo nella versione 16.0.0 del firmware di Switch? Un bel niente Mi dispiace Il problema è che la cronologia degli aggiornamenti al momento non è raggiungibile sul sito di Nintendo Italia Quindi mi devo rifare alla controparte americana Il changelog ufficiale riporta solo due modifiche I nickname composti da parole proibite saranno rimpiazzati da tre punti interrogativi Una feature che io non sono riuscito ad attivare E inoltre ci sono i consueti aggiustamenti alla stabilità della console Questi sono immancabili quanto fondamentali E l'unica cosa che ancora mi dà sicurezza in questa vita senza punti di riferimento Beh è la stabilità di Switch Grazie Nintendo Però il dataminer Hotmail Dome ha scoperto per ora che in realtà di cambiamenti ce ne sono parecchi Ma riguardano tutti le funzionalità interne del sistema operativo Come cambiamenti al browser interno Ai certificati utilizzati E tante altre cose che non interessano minimamente l'utente finale Quindi è proprio insensato indicare questo aggiornamento come una major update E spero che ormai tutti quanti voi abbiate abbandonato la speranza di vedere miglioramenti significativi Per quanto riguarda l'esperienza utente su Switch Temi personalizzati, chat vocali e cose simili Ce le prendiamo direttamente con la next gen E a proposito di futuro In una recente intervista rilasciata a IGN Il mitico Shigeru Miyamoto si è leggermente sbottonato sui piani futuri della grande N E in questo breve scambio sono stati trattati degli argomenti molto interessanti Miyamoto è infatti nel pieno del tour promozionale riguardante l'apertura del Super Nintendo World a Hollywood E l'intervista si concentra principalmente su quello Sappiamo benissimo che questo è un progetto a cui il designer tiene tantissimo Uno sforzo produttivo che è diventata la sua principale se non unica preoccupazione negli ultimi anni Addirittura un progetto che nacque da una discussione con Satoru Iwata Però con l'apertura del parco e il film alle porte Giustamente l'intervistatrice ci ha provato E ha chiesto perché non fosse stato ancora presentato un nuovo titolo di Mario Ad accompagnare tutti questi medium E la risposta di Miyamoto è stata lapidaria Lavoriamo sempre su Mario Quindi quando arriviamo a un momento in cui possiamo condividere informazioni Lo faremo sicuramente Beh si tratta ovviamente di una risposta diplomatica Che lascia poco spazio alle interpretazioni Che un nuovo Mario sia in cantiere è praticamente scontato Sembrano infatti passati secoli da Odyssey e Super Mario Maker 2 Il problema secondo me non è tanto quando il gioco sarà pronto per essere mostrato Ma più che altro quando a Nintendo farà comodo mostrare Secondo voi possiamo aspettarci un reveal in coda all'uscita del film per traghettare l'hype intorno al brand Fino alla fine del 2023 O a questo punto un nuovo Super Mario lo vedremo solo con la presentazione di una nuova console E per chiudere una vera e propria notizia bomba Microsoft e Nintendo hanno siglato un accordo storico Infatti l'azienda di Redmond si impegna per i prossimi dieci anni A far tornare su console Nintendo la serie di Call of Duty Si tratta ovviamente di una mossa fatta da parte di Microsoft Per convincere gli antiregolatori che stanno prendendo in esame la fattibilità dell'acquisizione di Activision Che il passaggio non comporterebbe uno scenario tendente a un monopolio Ma anzi che tutta l'industria potrebbe giovarne Quindi in questo accordo riportato dal vicepresidente di Microsoft Brad Smith L'azienda si prende l'impegno per dieci anni di portare su console Nintendo Tutti i futuri titoli di Call of Duty Che arriveranno con parità di contenuti e funzioni tra tutte le versioni L'impegno a lungo termine è quello di garantire un accesso egalitario a Call of Duty Sulle altre piattaforme di gioco Garantendo così più scelta a più giocatori E più competizione in tutto il mercato videoludico Ripeto è quasi un passaggio obbligatorio per contrastare tutte le obiezioni Portate avanti negli ultimi mesi da Sony E da tutti quelli che si oppongono a questa acquisizione dalla portata epocale E per quanto interessante come accordo A parte le buone intenzioni ci sono ancora troppi elementi fumosi Non sappiamo da quando partirà questo accordo Probabilmente da dopo la conclusione dell'acquisizione E non sappiamo neanche come si concretizzerà Si tratterà di versioni graficamente castrate come accadeva su Wii? O magari di giochi esclusivamente in cloud? Oppure chissà la next gen Nintendo sarà in grado di garantire performance di pari livello rispetto alla concorrenza? Secondo voi Poracci qual è lo scenario più probabile? Vi farebbe piacere il ritorno di COD su Switch? E questo Poracci era tutto per oggi Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo E vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno Non mi resta che darvi appuntamento a domani con estrema velocità per un nuovo TG Poro Tenetevi pronti perché questa era solo la parte 1 di 2 Voi nel frattempo mi raccomando fate bravi Riposatevi dormendo, sogni tranquilli Venite a seguirmi su Instagram Iscrivetevi al canale Ma soprattutto nerdate duro Io sono il Poro.0 Michele Miyamoto Ciao Ehi 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 fermo Se questo tipo di video ti piace Prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion Il Patreon dei Poracci Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale E in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto Come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa Che ne penseranno testate come EveryEye.it Tum 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 Tum